Alzano la voce e ti parlano sopra. Come puoi reagire? Innanzitutto dobbiamo capire una cosa. Chi alza la voce si sta arrabbiando, sta perdendo il controllo. Tutte le volte che qualcuno alza la voce, si sta arrabbiando e sta perdendo il controllo. Sempre. Quello che una persona si aspetta facendo in questo modo e che se lo aspetti consapevolmente o inconsapevolmente è la stessa cosa è che tu reagisca di conseguenza, che tu alzi la voce e perdi il controllo trasformando la conversazione in una gara a chi alza di più la voce e chi parla di più sopra l'altro. Quello che puoi fare in queste situazioni è di rompere lo schema. Anziché seguirlo, ne contrapponi uno radicalmente opposto. Poiché si aspetta che tu ti arrabbi, che alzi la voce e che quindi perdi il controllo. Assumi un atteggiamento radicalmente diverso. Come? Guarda la persona al centro della fronte affinché non si senta sfidata guardandola direttamente negli occhi. Abbozzi un leggero sorriso e annuisci. Questa persona potrebbe arrabbiarsi, potrebbe chiederti se la stai prendendo in giro. Cosa rispondere a questa domanda? Ti stai arrabbiando, stai alzando la voce. Quando sarà il tuo turno di prendere parola? Non parlare rapidamente. Quello che avviene in modo spontaneo in queste situazioni è di alzare la voce, parlare rapidamente, cercare di dire tutto quello che dobbiamo dire il più rapidamente possibile, ma non lo devi fare, perché altrimenti stai al suo gioco. Devi invece parlare lentamente, scandendo bene le parole. E se ti interrompe di nuovo, puoi dire una semplice frase. Non ho finito. Questa persona potrebbe continuare a parlarti sopra e ad alzare la voce. Se ti dice qualcosa, mi hai interrotto. Quando toccherà nuovamente a te parlare, devi farlo con calma, scandendo bene le parole. E quando avrai finito, dovrai dire, adesso ho finito. In questo modo, in realtà, stai prendendo il controllo della conversazione. Purtroppo queste sono situazioni sempre scomode. Non è mai piacevole avere a che fare con qualcuno che alza la voce e ti interrompe. È necessario assumere un ruolo educativo nei suoi confronti. senza cadere nel suo gioco, perché vincerebbe per esperienza.